Ancora sta mappa? Ma che palle! Ma come è possibile? Non c'erano mai due mappe ancora di seguito Ubisoft ho capito che vuoi i dati ma Ah il nome è Sussa È il Nessus È intervento scorretto Dov'è? Ah È mento Non ce l'ho visto Donna quanto lagga Ok ce l'ho io Toasting è buonasera caro come stai? Un denuncio a me anche a te perché mi stanno facendo laggare Un mortacci di me contro te Ciao lupo buonasera anche a te come stai? No 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 Tanto a live di garcino ma non sei contento No io non sono contento Sono brutto Eh cerchi di attaccarti con qua non si riesce proprio giusto A me non so i bambini che ti infanzi hanno a vedere i miei contro te Io posso per l'infanzia vedere South Park quindi puoi capire come sono cresciuto Dio non è una cosa buona eh Ammazzato uno zombie Mi ha mollato mi ha mollato La don che si ammazzano zombie a Stele Sto salendo sopra main Guardalo guarda guarda come in tutta la sua possenza Come viene impiccato adesso viene impiccato Mi avrà calciato O no Pado stasera che si sente Credo che sia Davi Che si racconta Abbiamo finito la maratona Siamo stanchi Però si va avanti No c'è lo zombie Oh sto zombie Venendo a te Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua No Peccata la getta al contrario Volevo flasha da sotto Dove mi sta porta A main No perché era qui Mi sa che ho di dolore Eh E' qui di dolore C'ha anche abbraccio lugubre Ecco questo Vado io al set No non me ne è vero No 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 Vieni qua Eh no però Non puoi Scuso No no Vieni qua Vieni qua ti cura prosciutto Main Tac Lascia i miei 99 che ho determinato Oh è qui attento Vieni qui in qua Vieni qui in qua Vieni qui in qua Siamoci qua nascosti A meno che non ti stia inseguendo Sì No 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 Aspetta Fai ferma Sì Fermi a me con determinazione Puro leggermente più veloce Oh shit Ciao chimico Buonasera caro Benvenuto Faccio un vado Oh Ok Lui non viene a disturbarsi Mi scambi Sì Guardano I tombi si mettono a guardare il sedere di Kate Qualcuno si ricorda la password se deve avere qualcosa di particolare di Ubisoft Una cosa positiva di sta lancora è che ho iniziato con tipo 8000 punti serpentelli ne ho tipo 27.000 Ah buongiorno Ragazzi il prossimo che fa il Jain ricordiamo che entra direttamente alla prossima partita Siamo un po' indietro con il Jain ragazzoli Un bel po' indietro Ma lo so Vabbè io non ci arrivo mai però Ancora questa mappa? Sì Quindi dopo giocano Lizardette e Furfy Ok perfetto Ecco Ah pure abbraccio Io che spavento Mi hai fatto caccare in mano Ehm Arriva il gancho Arriva il gancho Sì comunque si è riuscita questa mappa Perché il gioco è fatto bene Ehm Non sono Non mi sono pregato il gioco Non farlo mai più Ehm Val il gancho No Sta contorando il gioco Stavando Mi hai messo l'assicurazione Beh continuiamo qui No zombie God Troppo broken la torcia contro il nemesis Però non ha senso Adesso ti immagini lo zombie No ma come è Ci ferisce entrambi insieme Scusa Ah ok Perché le dovevo evitare in testa in pratica Ma tanto ho DS Ok Ma se ho sbaglio Se ho sbaglio Se ho sbaglio E va bene più Vabbè Mi ha dato il cercamento kill Bravo Ma poverino Fa brutta figura Davanti ai suoi colleghi Bulli Non teni i zombie? Sì Sì Sono finito il prossimo Il carasco Quello di prima Non aveva noed Ok Facciamo sti chenno Ragazzuoli Ok È su licenza Killer Non so che già mancano Questo Ce n'è uno mi pare Dietro impiccato Ok Forse ci stanno D'acqua Oh credo La volume centrale È impossibile Da fare È impossibile Dietro di noi Mi sa che è discordia Così Su due piedi Quasi Non so che però adesso trovo un altro gen a questo punto allora ma sto qua una vita non ce l'ha uno dietro cassetto vedendo se è lontano da iniziarlo così che non c'è nessuno davvero qua dietro ecco lì infatti ce n'è uno non c'è un pallet va bene chi ha azzeccato ha vinto punti canale esatto riccardo chi ha vinto punti canale in base a quanto hanno bettato contro c'è un'altra partita no giochi tu il prossimo porfi mi consigli che mi puoi dare per migliorare guarda dei tutorial se da killer o da serve puoi partecipare comunque alle community alle community academy che vi posso segnare meglio in base a quali sono i tuoi errori non è questo si autocritico no prosciutto io credo in te ce la puoi fare eh ma se non muoio da lui muoio da ma devo scegliarti ok vabbè ma fate i gen fatti i gen raga fate i gen è più importante e niente ce ne mancano solo due li stiamo facendo frank allora se frank riesce a prendere il gen di davi davi fa ok niente è incerto davi vai a portare la sua prosciutto eccoci finalmente a casa ora posso guardare tranquillamente daia ma ci sono brutale balle ai si ma loro vogliono giocare assieme dato che lizard è davanti devono scalare al prossimo almeno che lizard non vuole lasciare il posto a loro giocano lizard e gli altri due e ice brutale balle giocano dopo non c'è più lizard ah allora si gli ha già lasciato il posto allora no ci sono loro prima venite dentro shock venite dentro shock ok niente sono andato e vabbè questa gonnellina lasciamo il chen lasciamosi schifo vabbè adrenalina va va col te tu hai adrenalina frank? no allora allora io ho deliverance ok tu hai deliverance hai detto apro la porta di qua vicino al gancio dove sto mettendo mi gentilizza ti vado a giocare un po' su overwatch 2 va bene bro vabbè viene da voi due non so l'ho immaginato la porta da me è aperta eh se volete arrivo io ho anche dead hard apro perché tanto siete dead adulto voi riesci a fare una curata veloce? oh schifo dai il medici tu usalo eh se no l'hai finito cosa sto vedendo? che cosa ho visto? vai sei all'exit io provo a fare dei body ragazzi se volete però dovete venire eh no ce l'ho io dietro eh dove sei? eh no ha tiato il dead hard vabbè uno su quattro c'è mori ah è vero c'è il mori tu non mi bullizzi dove è l'exit? non mi ricordo dove è l'exit vabbè io sono morto mi fa il mori ecco vabbè gli ho dato una piccola mano qualcuno mi salvi il prosciutto eh non si poteva raga mamma mia non c'era modo per farlo è un bullizzato giveaway per i blood points si Riccardo fermo 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 no frega sono dei punti questi vabbè sono tre giorni che non gioca a DBD eh niente punti scammati anche queste cose si esatto ma l'ha mancata snowy che non ho idea di che cosa gli ho fatto a sto nemesis e niente punti per te e invece ne ho presi devi solo ho flashato giveaway per i blood points fatti a mano esatto Riccardo questi qua luminescenti e adesso questo era l'ultimo game no? adesso ne farei di giveaway quindi punti scammati giveaway ragazzi per partecipare grazie dei boys del secondo game grazie a tutti